Nei primi set soprattutto, poi abbiamo visto la crescita che mi aspettavo di vedere, che abbiamo provato in queste settimane, che non sono state comunque facili perché abbiamo avuto diverse essenze per infortunio. E certo, portare a casa un 3-0 non possiamo dire che siano contenti, però secondo me questa è una strada piuttosto lunga, questo è un campo difficile, era la prima in classifica, io mi prenderei il buono che c'è e da martedì ricominciamo a lavorare per la prossima, come giusto che sia. Io l'ho vista la squadra che volevo vedere, mi dispiace perché se i due set avvantaggio uno dei due lo porti a casa parli di un'altra partita, quindi il terzo set abbiamo un po' staccato la spina. Ripeto, è lunga, vediamo passo dopo passo, lavoriamo in palestra, continuiamo a lavorare in palestra, speriamo di riprendere continuità anche con le infortunate e andiamo avanti. Ripeto, è lunga, vediamo passo dopo passo.